Quattro sconfitte in sei partite. Riavvolgendo il nastro da appena un mese fa, neanche il più pessimista degli uccelli del malaugurio avrebbe immaginato una partenza tanto avvilente per la Carpegna Prosciutto-Pesaro nel campionato di Serie A2. E invece una tremenda realtà di concretezza quella con cui si deve scontrare la VL che con la Tezenis Verona alla Vitri Frigo Arena incappa nella terza sconfitta consecutiva col punteggio di 63-73. Alla prima di Spiroleca il nuovo coach sbatte sulla montagna di scorie da smaltire del gruppo squadra che parte imballato da subito e concede a Verona di mettere il muso avanti e tenerlo fino al traguardo della sirena. Rispetto a Forlì Pesaro ha mostrato una reazione di aggressività che ha consentito di chiudere il primo tempo con appena due lunghezze di ritardo e di mantenersi a tiro pure a fine terzo quarto anche grazie ai 25 punti di Ahmad. Nell'ultimo parziale però le mani tremano Verona ringrazia e il pubblico peserese fischia. Se il basket piange sorride invece la pallavolo con la mega box Vallefoglia che alla prima casalinga davanti al pubblico amico vince in 3-7 contro Busto Arsizio. Dopo le due maratone di Firenze-Perugia a Pesaro le tigre si impongono in un'ora e mezza con convincenti 25-21, 25-18, 25-15 grazie anche un ottimo ritorno in campo di Simon Lì e MVP di serata oltre alla solidità al centro di Candy e Weizel. Nel calcio arriva il quarto pareggio consecutivo per la Vispesaro ma l'1-1 di Chiavri è il più gratificante della serie perché in Liguria i biancorossi se la giocano alla pari contro la seconda forza del torneo reduce da tre vittorie di fila. È la vista ad andare in vantaggio dopo 21 minuti col difensore Coppola puntuale sul tappin vincente al cospetto della corta respinta del portiere su punizione di Di Paola. Lentella pareggia il 35esimo con un contestato gol di Marconi in cui il guardaline segnala fuorigioco ma l'arbitro annulla la decisione del suo assistente. È partita anche la serie A di calcio 5 con l'Ital Service Pesaro che in terra capitolina contro la corazzata Roma perde a testa alta 5-3. Ottimo approccio alla gara dei biancorossi che vanno sul 2-0 dopo appena 7 minuti con le reazioni rabbiose pareggia con la doppietta di Dimas. L'Ital Service scheggia i pali in avanti ma l'espulsione del portiere Ricordi cambia l'inerzia del match con Roma che spinge e va a riposo sul 4-2 grazie a Murilo e Biscossi. Nel secondo tempo l'Ital Service accorce sul 4-3 con Gastaldo e accarrezza al pari prima di capitolare sul definitivo 5-3 di Ercolessi ad una manciata di secondi dalla fine. Nel rugby la seconda partita stagionale della Fiorini Pesaro ha un esito simile alla prima con Casale e infatti Valpolicella ad aggiudicarsi la vittoria 31-24 in un match in cui Pesaro a tratti si impone e dall'altro disfa fra falli e amnesie dovendoci accontentare del solo punto di bonus difensivo.